Sai cosa mi disse mio padre quando ero piccolo? Mi disse che nessuno nasce maestro. Certo, è una frase che hai già sentito, ma dentro di me è risuonata per tanti anni, ma non gli ho mai dato un vero significato. Molte volte mi capitava di iniziare a fare uno sport, o di iniziare a studiare un argomento, o qualcosa che mi affascinasse. E quando vedevo che alla seconda o terza lezione non ero già bravo, allora vuol dire che io non ero capace di fare quella cosa. Non ero in grado di essere a livello delle persone che lo facevano da molti più anni di me, e quindi che avevano molta più pratica rispetto a me. E quindi dicevo, non sono in grado, non la posso fare questa cosa. Ma come diceva mio padre, nessuno nasce maestro. Per diventare un maestro devi praticare, devi continuare a fare, e non sarà dopo una, due o tre lezioni. E se intorno a te ci sono delle persone più brave, non lasciare che la loro bravura vada a inficiare o a tarpare le tue ali, ma rendi la loro bravura e la loro conoscenza tua. Impara con loro, pratica con loro. Non lasciare che la tua paura, la tua insicurezza, ti faccia pensare che tu sei inadeguato in quell'ambiente. Perché se sei andato per imparare quella disciplina, è perché appunto devi impararla, caro mio. No, non sei un maestro, nessuno di noi nasce già pronto. Siamo qui appunto per imparare. È talmente semplice come pensiero, ma al contempo tanto difficile da mettere in pratica. Pensa, se tutti noi capissimo questo concetto e lo mettessimo in pratica nelle nostre vite, in tutto quello che vogliamo fare, non sarebbe un mondo migliore?